Mi candido sindaco a Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti, nel centro-destra, nel centro-sinistra, nel movimento 5 Stelle. Tanti punti, lo sapete tutti, l'ambiente innanzitutto, ma la vivibilità urbana ormai a Taranto sembra un optional. Vedete, si eseguono vari lavori da parte delle ditte e l'amministrazione comunale evidentemente o non ha controllato l'uscente amministrazione comunale o non ha controllato proprio o evidentemente il controllo non ha sortito alcun effetto, perché la verità è che le ditte la fanno da padrona, fanno i comodacci loro, sfreggiano e distruggono il territorio. Ci troviamo a Lama, in via San Gregorio VII. Vedete, Lama è una delle aree più disastrate da lavori eseguiti in modo vergognoso, in modo davvero criminale, perché questa espressione bisogna usare, chi ha realizzato questi lavori li ha realizzati in modo criminale. Ora, io credo che qui siano stati fatti i lavori per realizzare il tronco fognario, credo, ma in ogni caso vedete qui cosa è successo, praticamente si è proceduto a realizzare gli scavi, poi l'asfalto è stato gettato così alla meno peggio, alla bella e meglio, è un eufemismo perché dovremmo dire che l'asfalto è stato messo proprio in modo schifoso, di tal che si creano appunto degli avvallamenti, anzi, qui c'è proprio una striscia che delimita uno sprofondamento, qui c'è un dislivello di centimetri enorme, basta vederlo qui, guardate, ve lo sto indicando col dito, ve lo sto indicando, qui proprio questo rappresenta come è sprofondato il manto stradale. Un'amministrazione cosa fa? Dovrebbe andare a controllare i lavori e durante l'esecuzione e alla fine, perché poi alla fine dei lavori prende la ditta per le orecchie e le dà un calcio nel sedere, nella migliore delle ipotesi, iniziano gli atti legali, ma gli atti legali non bastano perché gli atti legali molte volte arrivano troppo tardi, invece bisogna intervenire nel momento in cui si stanno realizzando i lavori o si bloccano i lavori oppure la ditta viene richiamata all'ordine e viene costretta a fare i lavori a regola d'arte. Dove sono stati i controlli? Cara amministrazione Melucci, caro ex sindaco Melucci, mi rivolgo anche a te ex assessore Vigiano, ma tu dici che controllavate, scusate ma controllavate per avere poi quali risultati? Che le ditte facevano i comodi loro e sfregiavano il territorio? Questi sono i risultati dell'amministrazione Melucci, il manto dissestato nelle periferie e non solo, ma in modo particolare qui a Lama fa capire la incapacità amministrativa della uscente giunta amministrazione Melucci, non ci sono scuse, il sindex sindaco Melucci dice di aver seminato la rinascita con tanto di cartelloni, questa è la rinascita di Taranto. Caro Melucci, la città che sprofonda, le ditte che fanno i comodacci loro e l'amministrazione che subisce e il povero cittadino che paga le tasse, paga le tasse, paga le tasse per avere uno schifo, perché questo è uno schifo. Con me, cari amici concittadini, la musica cambia, conoscete bene il mio carattere, conoscete bene il mio modo di fare, le ditte faranno i conti con me e quando la ditta fa una schifezza del genere, i responsabili della ditta probabilmente si troveranno la testa asfaltata insieme al manto stradale. Per una Taranto diversa, Luigi Abbate sindaco con Taranto senza Ilva.